Babbo Natale stavolta è arrivato a bordo di una 500 per portare un dono speciale alla pediatria del San Donato di Arezzo. Sono gli inquastiti per le 500 che hanno consegnato nelle mani del direttore della pediatria Marco Martini un apparecchio elettronico per la misurazione della pressione del neonato. Sì, si è donato una macchina in pediatria per i bambini, più portiamo dei gadget, magliettini, cappellini del nostro gruppo per far divertire almeno questi bambini un giorno, un oretto o qualcosa che possono sorridere. Abbiamo il piacere e l'onore di avere e di ricevere questa importante donazione alla unità operativa complessa che dirigo, che è un apparecchio anche costoso, sono 1300 euro, di cui 1000 provengono dall'associazione inguastiti della 500 e 300 dal comitato del neonatologia. È un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa elettronico nei bambini piccoli, molto piccoli, quindi è di rilevante interesse per l'assistenza di questi piccoli. Ora in questo periodo siamo particolarmente corteggiati, la pediatria, la neonatologia sono nell'attenzione di tutti, nel cuore di tutti, oltre agli amici qui originalissimi, gli inguastiti per la 500, abbiamo poi i nasi rossi, abbiamo il comitato per la neonatologia, ma anche i vigili del fuoco, i carabinieri, forze dell'ordine, insomma si alternano questi giorni, credo che ci sia da fare una specie di cronologia, perché se no diventa un problema di non far coincidere. Quindi siamo felicissimi, il nostro ospedale è un ospedale che è il più grande della nuova area vasta, la terapia intensiva neonatale, subintensiva e la neonatologia, nonché la pediatria, funzionano tutti al meglio e quindi noi siamo molto soddisfatti.